... Direttamente dal ritiro di Salice Terme, l'ultimo arrivato in casa Pavia Calcio Federico Carraro. Allora, presentati ai tuoi nuovi tifosi. Mi chiamo Federico e sono venuto qua con grande voglia di fare bene. Dopo essere stato sei mesi in C2 l'anno scorso mi sono un po' rilanciato, ho fatto un salto di categoria, sono venuto qui con tanto entusiasmo e, come ho detto, con la voglia di fare bene. In che ruolo prevalentemente ti piace agire sul fronte d'attacco? I miei due ruoli preferiti sono seconda punta o trequartista. Posso anche fare esterno, ma questi due sono i miei due principali ruoli. Ecco, cosa ti aspetti da questa stagione, sia a livello personale che a livello per la squadra? A livello personale mi aspetto di giocare con continuità, quello che non ho fatto magari in questi ultimi anni, e cercare di fare gol e assi per i miei compagni. E a livello di squadra posso solo sperare il meglio. Speriamo di arrivare ai playoff, anche se non è facile, però secondo me io lo pongo come obiettivo.